Un provvedimento importante, direi storico, che riconosce Castelli come città della ceramica abruzzese, un riconoscimento che arriva da tutto il Consiglio regionale, che ha appena approvato all'unanimità un testo di legge da me promosso qualche tempo fa, che ha avuto la condivisione prima con il territorio e quindi con l'amministrazione comunale di Castelli, con gli operatori di Castelli, con tutti i portatori di interesse di quella cittadina e poi ovviamente la condivisione nelle commissioni competenti. In più c'è stato anche un arricchimento con il contributo, l'intervento di parecchi consiglieri regionali di maggioranza e opposizione che hanno arricchito il testo base. Vuole essere un primo lavoro per favorire la ceramica nel suo complesso e avere Castelli come comune di riferimento a livello regionale e non solo.